Ci si fissa a volte, c'è gente che ha già stappato, se mi levo da coglioni, c'è gente lì che stappa, qui, per cui poi dice no, tu devi rimanere, tu devi rimanere, si parla sempre di rimanere. Perché, parliamo della squadra, dei risultati della squadra e parliamo di altre cose, gli allenatori, i dirigenti della Roma, gli allenatori avevano scelti tutti buoni, gli ultimi allenatori sono passati dalla Roma, se vogliamo vedere, tutti di grandissima qualità, che quelli sono rimasti poco, tipo Montella, guarda che sta facendo, un grande allenatore, per cui, tranquillo, non ci sono problemi.